I miei amici mexicani sono fan spiegatati della squadra dei Tuma. Il club universitario nazionale ASEE, popolarmente noto come Pumas della UNAM, è una squadra di calcio professionistica della Serie A messicana. Rappresenta l'Università Nazionale Autonoma del Messico, la UNAM appunto. Gioca in casa nello stadio olimpico dell'Università di Città del Messico, che ha un murales bellissimo fatto da Diego Rivera. E i suoi colori tradizionali sono il blu e l'oro. A me, come sempre, del gioco in sé importa poco, ma l'atmosfera e l'energia che si vive in uno stadio è sempre una bella esperienza. E qui, anche fuori dallo stadio, è una vera e propria fetta. E voi, siete mai stati a vedere una partita di calcio in un altro paese? Fatemelo sapere nei commenti sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, ma iscrivetevi al canale per non perdervi. Gioca e violenza! Gioca! 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 Grazie a tutti!